Colpa d'effetto della Dalia Management Moschiano, il club militante in Serie C1 ha ufficializzato l'arrivo di un calcettista di Serie A e di caratura internazionale alla corte di Mr. Oranges, è giunto Pedrito Pascottini. Il nazionale paraguaiano, fresco vincitore del campionato con il Serro Portenio, mentre con la nazionale guarani e compagno di squadra dei più celebri, Colo e Cugo Salas, giunge nel mandamento. Inoltre, Pascottini è vicegambione d'America, perdendo la finale contro l'Argentina dei vari Boruto, Taborda, Cuzzolino. Cleta, sbarcato in Italia nella giornata di ieri, ha disputato anche due mondiali di calcio a 5 con il Paraguay. Da lunedì sarà a disposizione di Oranges, mentre il suo esordio è previsto nella trasferta di Mariano contro la capolista Laos Domini. Gli Irpini attualmente sono ultimi in classifica con solo tre punti conquistati. Un arrivo importantissimo per permettere alla squadra di rialzare la testa e raggiungere l'obiettivo della salvezza.